allora ciao a tutte e a tutti nuovo video chiacchiericcio come state spero bene allora questo è un video chiacchiericcio che carico direttamente su youtube questa volta non lo monto e non faccio nulla ci metto solo la sigla iniziale è stato un incidente stava perché non avevo il telefono ma se l'ho fatta non farlo crollare ho dovuto cambiare postazione perché purtroppo il cavalletto vuoi non vuoi non funziona più non lo so cosa è successo ma mi tocca fare tutto manualmente col telefono perché allora basta nel selfie mi viene male a usarlo però voglio usare lo stesso le manucce le braccia mie niente allora dunque come state spero bene dunque allora questo è un bel punto che c'è riccio per parlare un po con voi ha quello fatto nel cap di halloween ho visto che un po vi è piaciuto grazie di cuore veramente grazie tante così si vedete che ancora dello smalto perché l'ho un po tagliate le unghie perché verrà veramente pietose non so se si dice così come facciamo pietà non erano grante belle ho voluto da una bella tagliuzzata e credo che adesso sto molto meglio di prima perché erano veramente troppo oscene le dovrei ripassare lo smotto perché in alcune se ne hanno andato ma volendo lo potrei rimuovere e rimettere da capo vediamo e niente quindi tutto sommato tra un poco faccio merenda faccio lo spuntino se non lo so cosa mangiare ancora io puoi fare un altro video che che dice poi questo ma sempre un'altra che dice un picchiericcio un videotag ho anticipato un videotag ma non so ancora quale e se lo farò non è detto sperando mi invidiate perché come arrivano notifiche grafica e non si sa neanche se la telecamera sta a prendere notifiche o se prendere non so se avete capito c'è in teoria di arrivare notifiche ma spero che non si vedano quello che quello che sta nel sì ma avete capito credo non lo so non sono grande e bravo a spiegarmi ma presumo che mi abbiate compreso comunque niente allora vi ho fatto vedere il video delle mie scorte beauty vi ho fatto appunto vi ho registrato il video delle scorte beauty e avete visto che ho tante sì è vero come ho anche tante palette non solo che non so quando farò vedere però vi farò vedere e niente allora siete messe qua sopra vedete allora siete messe qui perché vedete che quello lì stava per scenderlo a questa parte e voi fate avete fatto mezzo volo che per questo la sua riuscita a recuperarvi altrimenti oi 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 vabbè niente e ritorno alla base allora ho dovuto fare un'altra posizione c'è dove vi ho fatto vedere dove vi mettevo non era molto scuro l'ho rimesso in maniera non molto in bilico l'ho messo più l'ho messo meglio di come era messo perché l'epico e niente ragazze era solo per dirvi che questo video è criccio non sarà molto lungo perché magari non me lo guardate tutto comunque mi piace molto a me fare video make up non solo a lui ma anche altri che mi ingegnerò a fare anche io a fare mi ingegnerò nel senso che ci afferrò qualche altra cosa che studiare un altro make up da fare qua su youtube perché mi piace molto sperimentare voi lo sapete benissimo ormai non so se mi conoscete appunto ancora bene però prima o poi farò questo video tag dove mi conoscerete meglio non solo le video blog ok sto guardando di là per ricevere tutti i peleri sporchi da lavare ma lì davvero prima o poi perché non possono non possono rimanere l'eterno tutti sporchi anche no grazie ciao sono già quattro minuti che parlo va bene ci ci vediamo al prossimo video perché anche se questo video corto ma non voglio farlo troppo lungo che tanto so come guardate quindi non lo so intanto oggi vi faccio rivedere qualcosa di truccata per halloween in questa palette di zoeva di zoeva opulence ed è bellissimo vedete stra bella niente ho sotto pochi prodotti ma io direi che sono abbastanza buoni mi piacciono se credete che siano schifata non è vero perché mi sono piaciuti prodotti futurizzato è vero mi vedete struccata perché ho promesso come struccava mi sono struccata infatti niente ragazzi questo era tutto non lo dico sempre all'inizio ma lo dico alla fine vabbè fate come sapete come se l'avessi detto all'inizio mettete un bel like come dicono gli amicani un bel thumbs up e supportate appunto con un commento nella sezione commenti e attivate la campanella se qualora voi vogliate iscrivervi a questo benedetto canale ciao a presto un bacio e preparatevi perché vostra notte domani ci sarà un video asmr ok ciao ciao